L'esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro non è giudicabile, almeno così la pensa Ivan Zazzaroni, chiamato a dare un voto insieme agli altri giudici alle coppie in gara a Ballando con le stelle. La dura presa di posizione del giornalista sportivo nella puntata di sabato 17 marzo nasce non tanto da un'eventuale incompetenza tecnica dei due concorrenti del talent show di Rai 1, ma da una questione estetica. Per Zazzaroni è inaccettabile una performance di danza eseguita da due uomini e non dalla più tradizionale accoppiata uomo-donna. La scelta di non dare addirittura il voto alla coppia Ciacci e Todaro, la prima tutta al maschile nella storia del programma del sabato sera della rete Ammiraglia Rai, ha attirato sul giudice di Ballando furiose critiche e la pesante accusa di omofobia. Sul web infatti in tanti hanno contestato la decisione di Zazzaroni e qualcuno è arrivato anche a invocare l'intervento degli organi di vigilanza di Viale Mazzini. Omofobia senza giustificazioni contro la coppia Ciacci e Todaro su Rai 1 a Ballando con le stelle. Spero intervenga la vigilanza Rai, ha scritto su Twitter il giornalista e scrittore Tommaso Cerno, trovandosi d'accordo con tantissimi altri utenti che hanno postato messaggi simili. Travolto da quest'ondata inarrestabile di critiche, che Zazzaroni all'indomani della puntata di Ballando è intervenuto sui social spiegando la sua posizione. Se per evitare di essere tacciato di omofobia, accusa intollerabile, è sufficiente attribuire un voto alla coppia Ciacci e Todaro, ha cinguettato, dalla prossima settimana lo darò. Ho espresso un giudizio sincero ed esclusivamente estetico, non si è capito o, peggio ancora, non si è voluto capire. Nel tritacarne mediatico però è finita anche Millie Carlucci. La conduttrice infatti non ha preso una posizione nella vicenda e ha lasciato intendere che la decisione di non votare l'esibizione della coppia incriminata fosse plausibile. Insomma, nel 2018 c'è ancora chi si scandalizza per una coppia di ballerini dello stesso sesso. E poi ci si chiede perché Aldo Grasso, già qualche anno fa, definiva Ballando con le stelle come un programma antico da paleotelevisione.